Una turista napoletana si è vista restituire il telefono cellulare che le era stato sottratto durante un breve periodo di vacanza a Siracusa. La giovane era venuta nella nostra città, aveva preso alloggio nell'isola di Ortigia, così la ragazza si era recata sulla spiaggia di Calarossa per trascorrere una giornata di relax. Mentre faceva il bagno qualcuno aveva deciso di approfittare della sua buona fede sottraendole lo zainetto lasciato sulla renile. All'interno vi erano diversi effetti personali, anche un costoso cellulare iPhone X. Amareggiata per l'accaduto, alla giovane non era rimasto che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Ortigia e presentare denuncia di furto, lasciando poi la città con l'amarezza di quanto accaduto. I carabinieri hanno però subito attivato le indagini per rintracciare l'aere furtiva e individuare l'autore del misfatto, non con l'atteggiamento di routine ma con convinzione. Dopo mesi di attesa il cellulare rubato ha dato segni di vita, avendolo il presunto ricettatore riacceso e utilizzato con una nuova scheda telefonica. È stato così possibile per i carabinieri rintracciarlo ed eseguire una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, durante la quale è stato rinvenuto il cellulare rubato alla denunciante. Per l'indagato, un cittadino romeno di 43 anni, già noto per altri precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è scattata così la denuncia in stato di libertà per ricettazione. Il cellulare verrà restituito alla vittima, cercando così di cancellare quello che è stato probabilmente all'unico ricordo negativo della sua permanenza a Siracusa.